Dunque, Salieri era pronto a fare la sua mossa. Forse ci stava lavorando, ma poi il proibizionismo è finito. E con esso anche il business del contrabbando di alcolici. Tutti quegli scontri erano stati inutili. Ci sono voluti anni per risollevarci, ma una volta tornati in sella, ragazzi, allora sì. Abbiamo potuto investire in nuovi traffici tutti i soldi ottenuti con il moonshine e il Canadian. Molti erano legali. Edilizia, ristorazione, trasporti su gomma, gioco d'azzardo. Eravamo attivi ovunque, ad eccezione che nella droga. Nel 35 andava a gonfie vile. Incassavamo denaro con regolarità. Avevo una moglie e una figlia. Sam mandava avanti un locale per il Don. Perfino Pauli aveva i suoi piccoli giri. Non sarà stato entusiasta, ma... Ma almeno era... Soddisfatto. Sì. Esattamente. E Salieri... Finalmente iniziava a parlare di uscire dall'ombra di Morello. Di farci un giro di poliziotti e di politici corrotti. È interessante. Stai dicendo che nel 34 Salieri ha corrotto dei politici? Forse. Perché? Beh, qualche anno fa la buon costume ha arrestato un giudice per adescamento di minore. Una volta dentro ha confessato ogni genere di irregolarità in cerca di un accorto. Ha anche ammesso di aver accettato tangenti da Morello, oltre che da Salieri. Ha fatto il doppio gioco per guadagnare di più, ma... Morello l'ha scoperto e ha minacciato di seppellire i suoi figli sulla spiaggia ancora vivi. Cristo. Ecco il pezzo mancante. Che intendi? Morello ci ha sempre limitati, è vero. Ma non ha mai fatto nulla per iniziare una vera guerra. Quando ha scoperto che Salieri stava creando la propria rete avrà perso le staffe, perché nel 35 ci ha colpiti molto duro. Sulla faccia, dritto sulla faccia. Oh, ehi capo, che succede? Eh, fortuna che sei qui. Prego capo. Volevo pranzare da bebè, ma Carlo sta male. Mi accompagni tu? Sì, certo capo. Bravo. Sto morendo da fame. E il ferro ce l'hai? Certo. Potrebbe servirmi? Eh, sei come. Le cose con Morello sono gioco tranquilli. Ma magari sono solo nervoso. Allora come va, Tom? Lo so come va. Va bene. Certo, lo so. Tengo d'occhio i registri ogni giorno, ma visto che è successo quello che è successo, so anche che un capo deve parlare ai suoi sottoposti senza lasciare che altri si mettono a mezzo. Stiamo trattando con gente di una certa classe. Mi piace avere a che fare con tutti questi pezzi grossi che abbiamo per le mani. Meglio di quegli imbroglioni che cercavano di piazzarci le rimanenze prima del ventunesimo emendamento. Ah, ed è solo l'inizio, Tom. Ho dei progetti. Molta gente valida in fila per la propria parte. Mi fa piacere. Credo che ti fa piacere. Un po' di tempo lontano da Bully e i suoi piani idioti. Devo ammettere che è un altro tipo di conversazione, capo. Non ho dubbi. Però io, Sam e Bully siamo molto legati. Ne abbiamo passate tante assieme. Grazie. 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 Mi scusi. Mi piace mangiare presto, Tom. Ma tu mi stai facendo fare piuttosto tardi. Ho pensato a questo pranzo per tutta la settimana Aspetto di assaggiare la cassata, Tommy Oh, il vino! Ehi, altro vino qui, Amory! Mi piacerà, sai, questo vino è un... Don Salieri Prego, amico mio, benvenuto È un piacere, bebe Sì, ehi, su! È arrivato il nostro ospite Che cosa prevede il menù? Mia madre sarebbe onorata se voi assaggiaste la sua caponatina Eccellente, bravo, bravo Molto bene, lasciate che mi prenda una sedia, eh? Prego, se vedevi Sì, sì E davvero? Un bel chianti? L'ho messo da parte apposta per voi, eh? Oh, bene, bene, bene Vi lascio Sono felice che hai smesso, Tom Beh, sarà minacciato di lasciarmi Lo so Te l'ha detto? No Lo spinta io a farlo Gli ubriatori sono distratti Non volevo che commettessi errore di commenterci Ah, per voi È per voi Ah, bebe È tutto squisito come sempre Molto bene Grazie, Don Salieri I complimenti di un buon gustaglio come voi mi riempiono di gioia Se sapessi con cosa ho accenato non mi chiameresti, buon gustaglio Ah, 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 ah Ah Che succede? Moro Ehi, Salieri Forza, vieni fuori e facciamola finita Dai, stanno allo giù Merda, attenti L'uscita principale è presidiana Può camminare? Sono troppo letto Gli tenderemo a un'imboscata E li terrò occupati mentre li aggiri passando da retro Ne è sicuro, capo? Falle fuori, Fogli Nessuno deve tornare a casa solo e salvo Ok, capo Faccia attenzione Tom Cerca da fare fretta Eccolo, è qui Che ci fai ancora qui? Ci penso io, capo Lei stia su Eccolo Beccato Sì, non cagli il culo. Non cagli il culo. Non cagli il culo. Don Salieri! Capo, via libera! Hai le palle quadrate, ragazzo. Mi hai salvato la vita, Tom. Dobbiamo andare, capo. Tra poco arrivano gli sbirri. Fammi riprendere fiato un momento. Adesso la riporto al bar. No, non al bar. Andiamo da Carlo. Quel bastardo sapeva dove sarei stato oggi e si è dato malato. L'ha venduta. Ci ha venduti. Hai rischiato la pelle anche tu. Sì, lo so, capo. Carlo convive con una ragazza a Holbrooke. Andiamo a sentire che cosa ha da dire. Premi sul pedale, Tom. Se Carlo resta vivo ancora un minuto di più, vado fuori di testa. Certo, capo. Incredibile. Quei bastardi hanno avuto le palle di distruggere la mia auto. Non può essere stato che Carlo. Perché minchia stai vedendo come uno scemo? Oh, non è l'attivo. Non è l'attivo. Non può essere stato che Carlo. Suo padre aveva legato con Morello all'inizio. Il frutto non cade mai lontano dall'albero, eh? Ho pianto al suo funerale, ma quello del figlio riderò. Sua madre... Forza, Tom. Non c'è tempo per queste cose. Forza, Tom. Ma madre già vedeva, Tom. E per colpa sua resterà tutto sola. E per cosa? Un po' di soldi per comprarsi la droga e io che gli sfondo il crani a caccio. Perché non lascia andare prima me, eh? Forse Carlo se l'aspetta. No, Tom. La prima e ultima cosa che vedrà sarà la mia faccia. Ma che cazzo? Brutto bastetto di un cialidone. Meglio se te ne vai, tesoro. Lo sai che sei un uomo morto, Carlo. Tutto ok, capo? Sì, sono affaticato. Ora riprendo fiato. Cristo, è veloce per quella stanza. Non fartela scappare. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Carlo, torna qui! Voglio non uccidermi! Ehi, non abbiamo finito! Tommy, ti prego! Posso spiegare! Pretensaci, Tom! Ti prego! Lasciami parlare con il capo. Posso spiegare tutto. Tommy, posso spiegarti. Morello avrebbe ucciso Mappa. Ho dovuto farlo? Ho dovuto! Mi hanno costretto. Tommy! Ti prego! Posso spiegare! Ci sono poche regole. È ancora vivo! Non ne sono certo. Ora lo siamo. Ehi, Sergio, come va? Sempre in forma? Certo. Che c'è qua? Un attimo. Ma è Gordi? È lui! Ehi, Gordi, come stai? È bello, non te riconoscevo quasi. Che ha fatto? Hai detto che c'erano problemi già al porto, giusto? Sì, ma niente di ingestibile. Sì, beh, ho chiesto un po' in giro. Gli sto stronzo organizzavano sciopero. E gli scioperi danneggiano il business. A meno che non li organizzi nulla. Già. Ho pensato che il sindacato ha bisogno di una nuova guida. A te va bene? Ma certo. Bene. Ora, che mi dici dell'aucia cosa? Sono qui per questo. Salieri è sopravvissuto. Figlia del mortale! Che succedia? Non lo so ancora. I nostri sono tutti morti, come quelli del ristorante. E basta con questi lagni. Qui stiamo parlando. Che mi dici che dà nulla da legarlo? L'abbiamo trovato con la testa spaccata come un copomero. Non ho mai visto nulla di simile. Salieri deve aver capito che l'aveva ciò dito. Maledizione! Così non riesco a ragionare! Scoppierà una guerra. Ed essi da stare, voto! Siamo in guerra da quando è morto Peppone. Ora è alla luce del sole. Cosa vuoi che faccia? Fatti un giro. Avviso ai ragazzi di stare a lenza e di stare pronti. Ok. Spargo la voce. Ehi! Cerca solo... di stare attento. Anche tu, Don Morello.